Emanuela Orlandi è stata scoperta la verità, notizia shock da parte del fratello. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Sono passati 40 anni da quando Emanuela Orlandi è misteriosamente scomparsa il 22 giugno 1983, ma il suo caso rimane avvolto nell'ombra. Insieme ad Emanuela Orlandi, numerose altre ragazze sono scomparse durante l'estate di quell'anno torrido, sia dal punto di vista meteorologico che di cronaca. Recenti rivelazioni, emerse da un dossier sinistro battezzato Il mistero delle Quinti, hanno scosso l'opinione pubblica. Questo dossier, frutto di un'indagine a dir poco inquietante commissionata dall'avvocato Walter Biscotti alla Neo Intelligence, rivela una serie di nomi scomparsi nel nulla. Oltre alle già note Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, altre 13 giovani sono svanite nel nulla, tutte con caratteristiche simili e nel medesimo periodo. È come se qualcuno avesse cancellato le loro tracce dal tessuto della realtà. L'indagine, condotta dalla Società di Criminologia del professor Franco Posa, ha delineato un quadro inquietante. 15 ragazze, tutte dell'età di Emanuela e Mirella, scomparse nel raggio di soli 5 chilometri da San Pietro, nel cuore della città del Vaticano. Un'oscura connessione che getta un'ombra sinistra su quel torrido periodo. Ma quali segreti si nascondono dietro queste sparizioni? L'avvocato Biscotti ha avanzato l'ipotesi di un legame tra le scomparse di Emanuela e Mirella, e l'analisi dei dati sembra confermarlo. Altrettante ragazze, nella stessa fascia d'età, svanite senza lasciare traccia. Il mistero delle 15 si insinua nelle vite di queste giovani, come una rete invisibile tessuta con malizia. Mentre la commissione parlamentare guidata da Andrea De Priamo si prepara ad affrontare questa intricata vicenda. I familiari di Emanuela e Mirella continuano la loro ricerca disperata di verità, nella speranza che un giorno il velo dell'ignoto si squarci e sveli i segreti sepolti dietro queste misteriose sparizioni. Ma cosa è successo davvero a queste ragazze? Chi le ha portate via e perché? I commenti sono aperti, lasciate le vostre teorie e supposizioni. Il mistero delle 15 attende di essere svelato.